salve a tutti ragazzi sono sempre io il vostro vincenzomen e quest'oggi ragazzi siamo su archivo ragazzi quest'oggi sto giocando di nuovo all'avventura infinita ragazzi mi piace avventura infinita ecco quindi ragazzi direi di andare allora capite raga che mi è rimasto solamente elix come eroe da utilizzare quindi se viene sconfitto lui è finita la partita sapete ragazzi mi aspettavo i livelli più difficili ora vabbè boss che tipo di boss sarà sconfitto mamma mia raga proprio questo boss è difficile però ecco devi essere bravo ora mi prendo subito questa sì ok benissimo ragazzi oh 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 attenzione a questa ok facciamola passare sì dai cazzo no raga mi devo curare oh mamma mi devo curare nooo perché sembra qua aperto cavolo vabbè vabbè ragazzi ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio di archivo ciao